10 5 vai 50 secondo palo sinistra 3 per destra 2 accendo sinistro 100 allo stop sinistra 3 su Pivio accendo destro lungo scendo destra 3 gira accendo sinistro sinistra 3 gira accendo destro 50 al cartello accendo sinistro sinistra 5 destra 4 lunga sinistra 4 gira al Pivio destra 1 al Pivio accendo destro per accendo destro sinistra 6 fida di accendo destro scendo al cartello sinistra 6 destra 6 subito sinistra 3 accendo sinistro per destra 5 lunga sinistra 4 al Pivio sinistra 4 accendo destro 100 sinistra 6 sinistra 5 destra 4 destra 4 150 accendo destro al muro dopo il cartello attenzione destra 3 scende destra 3 sinistra 4 sconnesso sinistra 6 alla ringhiera dopo la fontana destra 5 dopo la fontana destra 5 chiude 4 per sinistra 4 destra 2 sinistra 3 destra 3 gira destra 4 per sinistra 4 tieni destra sottosso Pivio sconnesso per destra 5 accendo sinistro 150 sinistra 5 destra 5 destra 5 sinistra 4 gira scendo vai a cartello sinistra 6 gira scendo sinistra 6 accendo destro attenzione al muro leva sinistra 1 al muro destra 3 scendo cento sinistro cento destro cento sinistro sconnesso scendo alla pianta destra 5 50 destra 5 per sinistra 4 destra 5 per sinistra 5 scendo accendo accendo destro per destra 6 sinistra 5 sacrifica per destra 5 no accendo sinistro sinistra 2 al Pivio destra 2 destra 6 al Pivio destra 3 no accendo sinistro destra 6 per sinistra 6 destra 2 sinistra 4 per sinistra 3 al Pivio sinistra 3 al cartello destra 2 accendo sinistro vai vai per sinistra 5 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 per sinistra 5